Specificalo bene. Amici militanti, benvenuti a Brescia e Padania Libera sempre, non dimenticatelo. Sono qui oggi in qualità di commissario a portare i saluti di tutti i militanti, di tutti gli amministratori cremaschi e cremonesi che sono qui presenti. Oggi è un giorno importante. A nome loro faccio un enorme in bocca al lupo al nuovo segretario nazionale Paolo Grimoldi. E dichiaro qui che sarà un grande segretario, perché già da maggio sta lavorando e l'impronta si è già vista e la Lega Lombarda tornerà a essere la potentissima Lega Lombarda e la Lega Lombarda che fa da riferimento per tutto il Nord. Oggi stiamo scrivendo un'altra pagina importante nella storia della Lega Nord. Io vorrei fare un invito ai miei militanti, ma a tutti i militanti, ad usare queste opportunità congressuali, non per spaccarci, ma per portare avanti istanze, idee e per andare avanti uniti sempre di più. Perché stiamo combattendo una battaglia all'esterno che non ci può far perdere tempo all'interno per beghe o egoismi personali. Il nemico è fuori, non è qua dentro. Qua dentro dobbiamo essere tutti uniti e coesi. Voglio ringraziare anche Matteo Salvini per l'enorme opportunità che mi ha dato in questi ultimi due anni. E da questo palco devo ringraziare tutti i militanti cremaschi e cremonesi, tutti gli amministratori, per i due anni bellissimi che ho passato nel loro territorio. Mi avete accolto come un fratello e mi sono sentito in famiglia dopo cinque minuti che ero lì. Quindi grazie davvero. Permettetemi però una battuta chiudendo agli amici cremaschi e cremonesi. Spero che sia davvero l'ultima volta che da un palco come questo si senta parlare uno con l'accento bresciano. Quindi mi raccomando fate i bravi e andiamo a congresso alla svelta uniti a combattere la nostra battaglia. Grazie a tutti e viva la Lega Lombarda.